Le due ex geffine vivono nelle zone colpite dal terremoto.Attimi di paura a Catania Questa notte il capoluogo etneo e i paesi limitrofi sono stati colpiti da una violenta scossa di terremoto Il sisma ha provocato alcuni danni a delle abitazioni ma per fortuna non ci sono né feriti né vittime Lidia e Jessica Bella, le due ex geffine vivono in quei luoghi, quindi i loro fan si sono preoccupato tantissimo per le due gemelle La scossa di terremoto, è stata di 4 e 8 di magnitudo, quindi abbastanza forte e pericolosa Solo alcune ore fa le due ragazze catanesi sono tornate ad essere attive sui loro profili social per dire a tutti coloro che le seguono lo stato di salute e cosa è accaduto stanotte Le donne ha rassicurato ai followers, e ovviamente quest'ultimi le hanno sommerse di messaggi nelle direct Terremoto di Catania, i fan di Lidia e Jessica Bella preoccupati, loro li rassicurano con dei video Per fortuna il terremoto di Catania non ha causato danni nell'abitazione dove vivono Jessica e Lidia Bella Solo poche abitazioni si sono lesionate e caduti dei calcinacci, soprattutto nel comune di Zafferane Etnea A quel punto le due gemelle hanno deciso di realizzare un video su Instagram per rassicurare tutti e rispondere alle domande dei seguaci Vi volevo rassicurare perché noi stiamo tutti benissimo per fortuna. Ha dichiarato Jessica attraverso una storia Ci siamo spaventati da morire, fortunatamente a noi è andata bene. Ha continuato la Catanese Anche l'altra gemella Lidia ha realizzato un filmato dicendo questo. Stanotte come avete potuto sentire c'è stato il terremoto Tranquilli tutto a posto? Grazie per l'interesse. Quindi tutti i followers di Jessica e Lidia Bella possono stare tranquilli Le due ex Jeffine hanno avuto solo un grande spavento e nient'altro. Nel frattempo su Facebook, Twitter e Instagram circolato dei video su quello che è accaduto dopo il terremoto a Catania Grazie per la visione